Fine settimana dedicato agli arditi con una a due giorni, prossimi 19 e 20 giugno di cerimonie nei luoghi simbolo degli storici reparti d'assalto, vanto del regio esercito nella prima guerra mondiale, capaci di aprire varchi verso le trincee nemiche e conquistarle mantenendo la posizione sino all'arrivo della fanteria. Così sabato prossimo alle 9.30 cerimonia ufficiale col Moschin con il ricordo della battaglia del solstizio, il giorno successivo sempre a partire dalle 9.30 cerimonie a Col della Beretta e a Monte Asolone con alza bandiere e onore ai caduti, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-covid.